Siamo nel pieno della manifestazione podistica di Losine, mi sembra che sia andata bene Danilo. Beh, molto bene, la partecipazione è buona come anche gli altri anni, fortunatamente il tempo ci ha aiutato. Losine è presente come squadra a questa manifestazione, ma quest'anno c'è una novità che ritorna anche il calcio come nella sportiva. Bene, sì, siamo molto contenti come società di essere riusciti a iscrivere al campionato del polisportivo, quindi io gioco a calcio, una squadra di bambini di 6-7 anni. E per l'atletica invece quest'anno come si presenta la stagione? Beh, speriamo di buon auspicio, già la prima partenza, abbiamo detto che siamo in più di 160 oggi, quindi ottimo direi. La nostra squadra è come al solito formata dai nostri 10-15 atleti, abbiamo anche alcuni bambini ed è proprio su questi che noi puntiamo, sono i bambini che dobbiamo portare a diventare poi gli atleti del futuro. Grazie. 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 Grazie.